Credo sia arrivato il momento di abolire la legge che limita le assunzioni nei pronto soccorso, fare bandi di concorso a tempo indeterminato in tutta Italia per il numero di medici che mancano nelle piante organiche di ciascun nosocomio, che sia aperto a qualsiasi laureato in medicina e chirurgia in possesso di abilitazione e di iscrizione all'ordine e che, come ogni concorso che si rispetti, sia per titoli ed esami, dando il giusto valore ai titoli e nello specifico a chi possiede la specializzazione in questione, per poi passare a quelle equipollenti ed affini, fino a chi ne è privo. E questa è la proposta del medico del 118, Adriano Salvatori, di fronte alla pubblicazione dell'avviso urgente per reclutare medici nel pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, a cui mancano, ormai cronicalmente, almeno la metà dei medici previsti in organico. Credo che questa sia l'unica strada percorribile in questo momento, ha aggiunto il medico, e sono sicuro che i pronto soccorso di tutta la penisola vedrebbero tanti nuovi camici pronti ad entrare in servizio. Più volte noi medici del 118 abbiamo chiesto di essere assunti a tempo indeterminato nel pronto soccorso, ma non ci è stata data la possibilità per la mancanza della specializzazione prevista dalla legge. Eppure, specifica Salvatori, un medico di emergenza urgenza 118, svolgendo anche un singolo turno nel pronto soccorso, mostra di avere le capacità e le competenze medico-legale per potervi a lavorare, ma se andiamo bene per il tempo determinato, non è così per l'indeterminato. Da qui la sua proposta di cambiare la legge.